Ciao a tutti e benvenuti. Prima di arrivare alla giornata della giornata, la voce è venire sul lato della giornata. Buongiorno. Oggi ho tornato le bancherine, vanno su quando ci sarà il ricasso delle scuole. E' un'altra cosa che vogliamo presentare con il vostro video, il mio canale, come di questo video. Su, Trescia. Buongiorno a tutti, all'inizio, vediamo insieme con l'inizio. Buongiorno a tutti. A mio amico, allora, il mio signor Albaide, a sapere il mio signor prima di quello vostro, e a bruciare il signor dell'Apostazio, gli altri primi buoni, signori dell'Apostazio. Comunichiamo le informazioni delle scuole. Buongiorno a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti